La Puglia cuore del dibattito europeo sulle tecnologie spaziali. Si svolge per la prima volta in Puglia la conferenza internazionale Space for You, lo spazio, una chiave per la competitività e la crescita. Il focus dell'evento è l'individuazione di una politica spaziale europea a livello regionale, una necessità condivisa dagli attori spaziali dell'intero continente e riportata nei più recenti documenti stilati da Commissione europea, Agenzia spaziale europea e molte altre agenzie spaziali nazionali. Le regioni sono naturali soggetti di aggregazione della domanda e veri e propri laboratori di utilizzo dei servizi spaziali, nonché dello sviluppo delle piccole e medie imprese. Abbiamo investito sulle piccole e medie imprese nell'ambito dell'aerospazio, che sembra un settore specializzatissimo solo per le grandi, e non è così. Il nostro distretto eccelle in Italia e si fa valere a livello europeo proprio perché è un nucleo di piccole imprese che lavorano insieme, cooperando. Abbiamo un'opportunità straordinaria, quella di verificare concretamente i risultati dei tre pilastri della nostra politica industriale, innovazione, ricerca e internazionalizzazione. Su questo abbiamo costruito in questi anni l'opportunità di creare una cooperazione tra più imprese che hanno costituito un distretto produttivo che oggi fattura un miliardo di euro. Abbiamo la possibilità di sostenerle con i nostri investimenti per realizzare nuova ricerca e realizzare quello spazio for you, per te. Uno spazio per te che significa che occuparsi di spazio da parte della ricerca non vuol dire immaginare soltanto di andare su pianeti stranieri, ulteriori, diciamo, sconosciuti, ma significa invece inventare quelle tecnologie che servono da usare nella vita quotidiana. È quello che accade, che crea indotto, che crea occupazione. Oggi il distretto assorbe quasi 6.000 occupati e io credo che questi siano i fatti più rilevanti. Emerge però anche la possibilità della Puglia di investire in Europa e di andare in Europa non da supina ma in alleanza con le altre regioni e con la rete europea Nereus per sostenere nuovi investimenti nell'aerospazio. È per questo che anche al Ministro abbiamo chiesto, nell'ambito del piano nazionale della ricerca, di considerare sempre di più questo settore perché è una specializzazione di questo nostro territorio che pur nella marginalità geografica riesce ad emergere per qualità della ricerca scientifica. La Regione Puglia ha dunque individuato in Nereus il soggetto più adatto ad abbiaere tale dibattito. Nereus è infatti un network di 23 regioni europee e 39 membri associati, creato per inserire efficacemente le realtà regionali nel contesto spaziale nazionale ed europeo e una piattaforma per le regioni europee per identificare ed esprimere le proprie esigenze a livello politico ma anche per costruire forti partnership internazionali. Space4U conferma dunque l'impegno della Regione Puglia in uno dei settori traino dell'economia pugliese, l'aerospazio. Un settore che oggi conta oltre 80 aziende che impiegano più di 5.500 lavoratori e totalizzano oltre un miliardo di euro di fatturato. Lo spazio è veramente la possibilità infinita di guardare da un punto di vista così lontano quello che noi siamo, quello che noi facciamo. È una possibilità infinita di applicare tecnologie alla nostra quotidianità. Quando si dice la conquista dello spazio bisogna immaginare tecnologie che riguardano il monitoraggio ambientale, l'osservazione della terra, l'osservazione di fenomeni meteorologici, le previsioni di eventi catastrofici. Bisogna immaginare quello che si può fare in termini di prevenzione e di protezione civile a partire da una moderna cultura dello spazio. Ma tutto questo, anche un rilievo economico formidabile, impuglia il fatturato delle piccole e medie aziende che si occupano dello spazio e dell'aerospazio, è un fatturato di un miliardo di euro. Noi diamo lavoro quasi a 6.000 persone in Puglia ed è uno dei distretti che dimostra che per essere competitivi e vincere la sfida del mercato globale non bisogna praticare lo schiavismo, comprimere i diritti dei lavoratori, togliere reddito, investire sulla riduzione del costo del lavoro. Ma per guadagnare competitività bisogna far crescere la cultura produttiva, il sapere produttivo, bisogna investire sull'innovazione, sulla ricerca, sulla modernità. Questa è politica industriale. Credo che quando parliamo di industria oggi dobbiamo avere naturalmente molto preciso il senso di una parola che a volte viene evocata a vanvera, che è sostenibilità. Il sistema di impresa deve affrontare i nodi della sostenibilità sociale e della sostenibilità ambientale. Ma questo non significa fuggire di fronte alla sfida. Le sfide della modernità ci dicono che bisogna andare avanti, non andare indietro. E l'industria dell'aerospazio, proprio per le sue applicazioni e le sue prospettive, è uno dei settori più interessanti, più promettenti. Noi ci crediamo, noi vogliamo investire.